No, sicuramente siamo più consapevoli della nostra forza, abbiamo rinforzato la Rosa, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo i nostri obiettivi, sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorare, quindi questa è la cosa più importante. Poi guardiamo in casa nostra, sicuramente gli altri hanno iniziato male ma siamo appena alla quarta giornata, quindi hanno tempo per migliorare e sicuramente lo faranno sicuramente, noi dobbiamo solo guardare in casa nostra e cercare di far meno errori possibile. La condizione fisica è ottima, noi facciamo sempre la partita, facciamo il nostro gioco e gli avversari per cercare di starci dietro devono correre tantissimo, anche se sembra che noi al primo tempo fatichiamo, però non è così, gli altri fanno la doppia fatica, infatti nel secondo tempo calano un pochettino e riusciamo a fare la nostra partita.